Dei 716 unità lavorative in meno su 2.600 che si sono rilevate il 31-12-2021, sicuramente questo dato è aumentato e quindi la condizione del funzionamento dell'ospedale e degli ospedali della sanità territoriale della provincia di Matera si è aggravata. La situazione non cambia, anzi peggiora per la sanità materana, CGL e Cisleguil tornano a denunciare le criticità dinanzi all'ospedale di Matera con il presidio permanente, istanze che saranno portate dicono all'attenzione del prefetto mentre si è in attesa di un tavolo chiesto specificatamente all'azienda sanitaria di Matera che non arriva, nel frattempo la vicenda si arricchisce anche di altri aspetti. Succede che si dimette il direttore amministrativo, succede che il bilancio dell'asma di Matera è sotto di 2 milioni e 300 mila a fronte di una razionalizzazione per cui c'è una incongruenza, mentre si razionalizza e non ci sono i servizi si è anche in passivo. Ma questi soldi dove sono finiti e quando ci sarà invece il bilancio dell'ASP di Potenza, del San Carlo, del Grob di Rio Nero? Quando noi sapremo la situazione di tutto il sistema regionale della sanità? E come mai noi nominiamo una task force per indagare e valutare la questione finanziaria dell'asma di Matera? E sono tutti funzionari interni alla regione Basilicata. La regione Basilicata dovrebbe mettere in campo risposte concrete, concludono i sindacati, considerato il contesto che continua a scontare lunghe liste d'attesa, strutture sanitarie private in protesta e regioni limitrofe che hanno difficoltà ad accogliere l'eventuale migrazione sanitaria lucana.